Si consuma a lungo Viale Marconi la lotta a Fratricida in seno alla giunta comunale di Pescara. Ieri c'è stata una riunione a cui hanno partecipato anche gli esercenti, oltre al sindaco, gli assessori competenti e al presidente del consiglio comunale. Il consigliere Fabrizio Rapposelli chiede che il primo cittadino ritiri la delega al commercio all'assessore cremonese. L'assessore al commercio attuale non ha preso mai posizione per quanto riguarda questa opera, non ha mai detto nulla su questa opera e non ha mai voluto farsi portavoce delle istanze, dei commercianti che ieri hanno protestato e hanno soprattutto detto la loro in maniera anche molto chiara. E quindi ritengo che qualora un membro della giunta con una determinata delega non difenda, non sia paladino, degli interessi o comunque delle istanze di quel ramo della delega, è bene che la rimetta la delega in questo caso. Nella maggioranza di centrodestra la crisi è diventata ufficiale, tuonano le opposizioni. Rapposelli infatti in consiglio e capogruppo di Fratelli d'Italia, stesso partito di cui è espressione l'assessore cremonese. Se ci sta anche qualcuno del nostro schieramento che non ha, diciamo, sotto questo punto di vista rispettato anche le aspettative dei cittadini, è bene che faccia altro. Lui fa l'assessore a altre delega, al turismo, grandi eventi, credo che lo stia facendo anche abbastanza bene. Per quanto riguarda questa questione, è una questione insomma molto ma molto importante, il silenzio è stato abbastanza assordante. Dopo mesi di lavoro e aver cambiato idea diverse volte, con la segnaletica stradale l'amministrazione comunale ha terminato gli interventi lungo il viale. Si attende ora che gli autobus inizino ad attraversare le rotonde, così da verificare l'efficienza della viabilità. L'opera diciamo che è conclusa. Noi riteniamo, o perlomeno io da presidente della commissione commercio e attività produttive, che questa è un'opera che è potenzialmente molto dannosa per il commercio cittadino, e quindi dal ruolo che rivesto in comune, quindi presidente della commissione commercio e attività produttive, non posso che preoccuparmi delle attività e dei commercianti di zona, di Viale Marconi, che hanno espresso a più riprese grandi riserve su questo tipo di opera e soprattutto sull'ipotetico danno ferale per le proprie attività commerciali.